Ciao amici! Oggi voglio fare un piccolissimo tutorial. Prima di tutto dobbiamo andare su freehand. Se avete un amico su roblox e su adot.me voi vi teletrasportate e se voi non siete in quel server basta che voi cliccate follow. Poi dovrete aspettare e poi adesso siete nel suo server. Ora per teletrasportarsi dobbiamo ancora cliccare freehand e poi dove c'è scritto teletrasportati voi dovete cliccarlo e da lì che succede che vi teletrasportate. Spero che il tutorial vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo tutorial ciao